j ruolatrice j ruolatori bentornati a un altro mercoledì da fabbola lievemente in anticipo oggi perché a mezzogiorno alle 11 a che ora è all'una e mezza devo scappare la velocità della luce quindi scusateci il buone ma è il nostro manuele galletto autore di fabbola ultima nostra room star è in sottofondo grazie sberlus per aver sommato durissimo da dieci mesi dieci numero tondo ma adesso chiamiamo subito e ma perché abbiamo un sacco di cose cui parlare e non parlerò io i miei esempi le varie cose che dico sempre di rise e tutto quanto ne parleremo a fine se abbiamo tempo allora dove sei eccoti qua emanuele galletto autore come stai emanuele galletto autore tutto bene bene tutto bene oggi abbiamo la seconda puntata diciamo della serie sui dubbi e poi parliamo di rituali e progetti comunque scherzavano poi va benissimo anche parlare ovviamente dei rituali accaduti in sessione o una o una mini checklist di robe di cui parlare allora io allora secondo me prima di fare degli esempi di chiarire i dubbi altre cose o grande valdo coboldo il sberlus sbini tutti i dieci mesi ragazzi ares o ares si è abbonato grande ares ma qua c'è un sacco di cose nuove né figate allucinanti prima di vedere gli esempi io vorrei fare una cosa molto molto semplice ovvero vuole fare la cosa più difficile che si possa fare in un jrpg o in un manuale di gdr la cosa più difficile in assoluto leggere allora allora come vedete vedete in effetti non sarà una live di esempi quanto di diciamo discussione di concetti grazie ares ares ci ha augurato un buon pranzo di ruolo grazie mille allora qua davanti a voi quel che vedete vedendo dovete essere due imbecilli perché non se io sono più imbecillo di emma però anche emma ormai fa parte è entrato fa parte della famiglia di league games quindi ha preso ha preso anche lì l'imbecillitudine non con tutti quanti prende inizio a negozizzare diciamo possiamo dire di essere due persone che conoscono molto bene questo gioco in qualità di autore e in qualità di editore fidatevi fidatevi che emma ha scritto il gioco io ci ho passato dio se lo sa quante ore a leggerlo rileggerlo e a sbabbunarci contro lo conosco molto bene nonostante questo ho le mie linguette chiunque mi conosca sa che in tutti i miei giochi metto sempre le linguette con le cose che secondo me posso dimenticarmi ma che mi dimentico è mi dimentico un sacco di cose o faccio errori anche a distanza di tre quattro anni che gioco questo gioco qua e con emma gli chiedo le cose e ci sono ho opportunità perché non mi ricordo ragazzi non mi ricordo l'opportunità non ci posso far nulla cioè sono sempre tante se non si fa sempre quella doll più quattro a un altro no ce ne sono un sacco quindi mi dimentico sempre orologi rituali progetti progestare scontri sconti con i boss e progettare png è vero solo uno dietro l'altro però è più comodo per me e poi ho sempre nemici sessione 1 nemici sessione 2 nemici sessione 3 così se ho dei nemici li vado subito qua quando uso perché non mi piace usare il pdf nelle sessioni live i rituali a pagina 119 la metto ve la faccio vedere così le vediamo assieme perché c'è nel senso ma come si fanno i rituali ma è difficile e non capisco a freeform forgiti o robe del genere allora scusatemi freeforge si dice allora rituali allora sono due facciate di cui ci sono una due tre tabelle cioè c'è scritto pochissimo investendo di livelli in determinate classi e mobilità bla 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 si possono fare di energia rituale ce ne sono sei tipi diversi no arcanismo chimerismo elementalismo entropismo ritualismo spiritismo quindi in base a quello che voi volete fare vi leggete che cosa vi fanno no c'è il test di magia che bisogna tirare e poi può essere usata per cioè abbastanza semplice non una nota partiamo subito con i con i mea culpa questa cosa è già presente nel documento dell'errata ma il terzo punto che dice far perdere pv dovrebbe dire far perdere o guadagnare perché altrimenti ci sarebbe un problema e lo dico perché magari chi ci sta seguendo non ha ancora visto che c'è il documento dell'errata invece ce l'abbiamo e linkato nei file pinnati sulla community telegram nel 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 commento fissato in alto e questo qua è una delle delle robe che abbiamo notato purtroppo è un errore di battitura capita che poi ragazzi c'è senso cosa posso fare con i rituali tutto quello che non è descritto qua nella capiglia quindi non puoi fare danni non puoi fare mettere o togliere status non puoi far perdere o guadagnare punti vita punti vento punti inventario punti fabula punti ultima perché voglio vedere chi è l'imbecille che fa un rituale fra guadagnare punti ultima però vabbè lo fanno i cattivi ma i cattivi fanno rituba il cattivo il master vi odio tutti quattro e replicare gli effetti un incantesimo perché c'è già l'incantesimo perché devo fare un rituale con incantesimo cioè questo qua serve per non andare a pestare i piedi agli altri giocatori conferire uno più capacità permanente a una creatura non ha senso cioè usi un punto fabula usi un rituale per una una cosa one shot basta non ha senso capacità permanente cioè allora io non livello più io uso un rituale perché da oggi so volare basta no no uso un rituale uso un rituale dell'elementalismo del vento per fare una corrente d'aria sotto i nostri piedi che ci fa elevare fino all'altezza della scogliera perfetto una volta cosa qua si può fare come faccio un rituale però i rituali sono un casino da calcolare no non sono un casino da calcolare uno ci sono tre punti tre io non dico neanche contare fino a cinque fino a tre vacca boia maledetta uno si descrive ciò che si vuole ottenere magari il master ti dice no guarda magari non serve un rituale magari c'è qualcos'altro puoi fare qualcos'altro oppure no non serve un rituale guarda sei un elementalista molto forte sei di trentesimo livello magari non serve neanche che spendi tempo per un rituale non ha senso c'è i dadi non devo essere volgare metteteli via se non bisogna tirarli metteteli in un luogo a un gusto i dadi si tirano se bisogna ottenere qualche cosa di rilevante consultare le tabelle non è roll master ci sono due tabelle con quattro cose c'è due due vacca boia maledetta tre il rituale viene lanciato seguendo la normale procedura di un incantesimo c'è anche scritto pagina 115 cosa significa che tu tiri i dadi e vedi sei superato il livello di difficoltà c'è ld scritto vicino non è lsd perché sembra che ve la calate voi lsd per non capire cosa c'è scritto qua allora no no sono incassato come un toro pedro c'è una roba allucinante si abbasso il game allora ecco allora potenza parlando parlando di cosa significa l'atto pratico nel dettaglio significa che come per gli incantesimi si compiono i gesti magici si pronuncia la formula e le creature nei pressi potranno vedere e sentire chi sta lanciando l'incantesimo quindi è un qualche cosa per cui bisogna poter parlare e muoversi se sei imbavagliato legato a una sedia anche i rituali purtroppo sono fuori fuori servizio allora la cosa bellissima allora per spiegarvi in maniera forse più chiara che cos'è un rituale è un incantesimo che vi inventate voi ok pensatelo in questa maniera qua forse vi è più facile c'è un sacco di spettatori per la prima volta quindi ciao mattia ciao francuzzo ciao ragazzi e ragazze stiamo parlando dei rituali mi infervoro perché effettivamente quando mi infervoro mi infervoro in maniera sempre finta perché se mi incazzo davvero chi mi ha visto arrabbiato sa che non sono proprio così sì questo non è nicola arrabbiato perché è veramente semplice cioè mi dispiace che le persone si perdono il classico bicchier d'acqua non so allora premetto ragazzi e ragazze i rituali è stata una delle cose per me più complesse da mentalità di endosa tradizionale che ho sempre avuto io da giocatore da capire con ema ti ricordi ema una delle cose che ti ho detto quando ho iniziato a studiare seriamente fabula è stato ema scusami ho difficoltà con i rituali te lo ricordo preoccupavano molto mi preoccupavano molto perché conoscendomi allora io faccio tanto il fatto che non voglio fare il power player ma studiando letteralmente i giochi giocandone a centinaia veramente considerate che io conosco centinaia di gdr mi rendo conto che potrei fare pg o rituali sbroccati o vado sempre a cercare la combo letale ma non la combo letale perché voglio giocare pg ottimizzato perché il mio personaggio quando evolve quando cresce di livello non è che cresce solo di numeri ma cresce anche perché inizia avere un background da combattente incantatore studioso quel che l'è c'è nel senso quindi è normale che un guerrier pensiamo in maniera semplice un guardiano di trentaseiesimo livello pretenderà di avere un'armatura di un certo tipo perché dovrà combattere dei nemici di un certo tipo quindi è logico che vai dal fabbro ti fai fare un'incantatura di una certa maniera ti prendi un'arma di una certa maniera degli scudi sgravati e via dicendo ma perché fisiologico però per i rituali voi pensate rituali come degli incantesimi non scritti nel manuale ma proprio ruolateli quindi c'è il fatto di che fate delle varie formule se vi stavano degli elementi descriveteli perché nel senso avete presente come sono gli incantesimi dei jrpg c'è uno fondamentale accendo un fuoco arriva un sabbo di fuoco enorme che con l'alito accende il rametto c'è nel senso descriveteli bene ma molto semplicemente sono degli incantesimi che non vengono magari spiegati nel manuale o che non vengono spiegati per il semplice fatto che sono voi siete voi che dovete utilizzarli per qualcosa che vi può servire a voi al vostro party o a qualcosa e li lanciate in base a quanto fondamentalmente più sono potenti più è grande l'area che devono coinvolgere più è grande il numero di persone coinvolte più avranno logicamente un costo in punti mente più alto e un livello difficoltà ld vedete pm ld sono i punti mente gli ld quindi dove nello specifico il costo dipende da entrambi mentre la difficoltà dipende dall'intensità dell'effetto è un effetto molto molto tenue ma su una grande area costa solo molto ma è facile da fare allora minore 20 punti mente livello difficoltà 7 quindi è proprio livello difficoltà basic no fondamentalmente esempi creare lampi di luce bloccare passaggi rompere vetri e via dicendo e non è il pur ragazzi il punto è solo gli esempi c'è può essere qualsiasi cosa bloccare passaggi come può essere non c'è un rogue non c'è qualcosa non volete fare cosa scardinare una fare uscire le viti da una serratura o cose del genere cioè se c'è un personaggio voi considerate sempre questa regola qua se c'è un personaggio che può fare per le abilità che ha quello che può fare un rituale non utilizzate il rituale se esiste un incantesimo che può fare quel rituale lì magari c'è un png c'è qualcosa se quella cosa che potete farlo può farlo un punto fabula utilizzate il punto fabula tutto il resto utilizzate i rituali o gli orologi per determinate azioni da questo punto di vista in realtà ci sarebbe un discorso da fare alla base oggi parliamo sia di rituali e progetti che dei progetti e in realtà questo discorso vale per entrambi cioè a differenza dei giochi con le liste determinate no del tipo di invenzioni che puoi fare o del tipo di incantesimi di utilità che puoi lanciare questo qua fabula è un gioco che ha delle opzioni ad alto contesto cosa vuol dire io uso il termine ad alto contesto che di solito si usa per i linguaggi la differenza tra un linguaggio ad alto contesto e un linguaggio a basso contesto è che in un linguaggio ad alto contesto una singola frase può voler dire tantissime cose diverse avere tantissime sfumature diverse e vanno capite dall'ascoltatore un esempio di una lingua di questo tipo ad esempio il giapponese dove la stessa frase viene tradotta in dieci modi diversi nell'adattamento italiano proprio per questo motivo perché a seconda della scena significa cose che esprimeremmo in modi differenti l'italiano invece una lingua che è molto più a basso contesto una frase tipicamente vuole sempre dire una certa cosa salvo poi giochi di parole eccetera una lista degli incantesimi di dnd è a basso contesto perché sono tutti effetti molto circostanziati e precisi poi hanno delle applicazioni furbe cioè creare la pratica cosa di creare no creare acqua e in un luogo freddo per fare qualche cosa oppure quello anche che l'approccio sr utilizzare un incantesimo con un effetto molto limitato e circoscritto ma in una situazione che ci consente di fare qualcosa di più per esempio tu parlavi prima della serratura bloccata se io un incantesimo svitare vite sembra una cretinata però in quel caso mi concederebbe magari con uno schiocco di dita di aprire la serratura rapidamente per esempio invece in fabola la questione è alto contesto che fa sì che infatti le conversazioni e le discussioni su progetti e rituali fatichino ad avvenire perché nel vuoto non significano nulla cioè un certo effetto dipende dal contesto per sapere se è estremo per sapere se è medio un certo progetto allo stesso modo dipende dai suoi dettagli e mi rendo conto che quindi sia molto più facile no vedere che ne so gli incantesimi tipo ignis o le abilità come spezza ossa perché una cosa fanno e quella è ben determinata siamo tranquilli quando invece guardiamo un rituale o un progetto si apre un mondo di possibilità e può essere un pochettino paralizzante se ci sono dei dubbi vanno detti al tavolo i rituali e i progetti non sono una cosa che potete studiarvi prima e poi non ragionare quando l'applicate al tavolo sono molto dipendenti dalla conversazione e negoziazione al tavolo di gioco l'esempio tipico che fa nico se una certa cosa la sa fare già un personaggio non fare il rituale per quella cosa significa che in un certo gruppo un certo rituale potrebbe essere una buona idea farlo e in un altro no il rituale è sempre possibile in entrambi i gruppi ma in un caso è una violazione degli spazi reciproci di gioco e nell'altro no sì ma scusa intendevo se può fare un personaggio inteso che è al tavolo c'è logico esatto hai fatto benissimo a dirlo ma è esattamente per questo che dico nel vuoto è difficile parlare di dei rituali un'altra cosa la scorsa puntata già c'era qualcuno che diceva che si faceva fatica perché in fabola non ci sono i trucchetti ma il punto è questo un rituale può essere il ruolo di un trucchetto oppure potresti non fare per nulla un rituale perché se siamo in una scena di riposo ed escrivo il mio piromante che accende il falò ma non so cercando qualcosa no cioè non devo pagare degli mp perché è una cosa che potrei fare tranquillamente è solo colore come si dice ma io ho fatto la scorsa settimana due sessioni con dei ragazzi che giocavano solo a dnd no e uno di loro mi parlava dei trucchetti fa che comodo sarebbe adesso e fa giocava elementalista arcanista per farti capire che comodo sarebbe adesso qua poter fare mi ha fatto due esempi o taumaturgia o mano magica se fossimo in dnd faccio perché scusami guardate qua creare lampi di luce creare illusioni nostro leggende rituali è un classico effetto minore cioè sei un arcanista no quindi tu puoi diciamo evocare cose perché non puoi evocare chiamiamola mano magica o un uccellino spiritico qualcosa di che ti faccia l'effetto di mano magica cioè prendere un oggetto e portarlo cosa c'è è un crei un l'ho fatto minore l'ho fatto individuale perché era piccola cosa piccolina che fondamentalmente doveva portare doveva aprire con un mazzo di chiavi una porta a distanza od evitare che se succedeva qualcosa c'era qualche trappola lo prendeva questa questa evocazione qua gli ho fatto fare un rituale molto semplice gli ho fatto fare un rituale ho fatto medio perché ha dovuto creare qualcosa area individuale quindi ho fatto 30 difficoltà però gli ho messo 10 ha fatto senza problemi e fa ma allora scusa a questo punto io posso far finta di entrare in una stanza e se fare delle che escano delle voci dietro di me così le persone riscutono paure faccio perché no è sempre un creare illusioni fa ma allora aspetta io posso inventarmi posso inventarmi degli incantesimi allora ad hoc che non ci sono e faccio esatto poi logicamente non è che posso dire allora appena la prossima volta li vedo li faccio lanciare un meteoro in testa e faccio no questo no perché pagina precedente infligge direttamente dei danni poi il fatto invece che vogliate fare un rituale dove potresti fare potresti fare una meteora che come possibile effetto collaterale ovviamente estrema e cioè andiamo nel genere di roba che probabilmente succede quando hai tanti mp da spendere esatto cioè allora ragazzi poi ricordatevi faccio un esempio faccio un esempio alla raisa allora io voglio indebolire un'entità divina delle grandezze di un iceberg ok gigantesca come se fosse un cthulhu enorme quindi è una difficoltà estrema 50 ok la grandezza enorme per 4 200 ld 16 io ho 106 mp al momento come faccio master scusami però ne abbiamo l'ultima volta abbiamo sconfitto il drago dei ghiacci gli abbiamo preso il cuore cristallizzato posso spendere 100 mp e usiamo il cuore cristallizzato come elemento catalizzatore del rituale quindi lo distruggiamo noi stiamo distruggendo un come se fosse una stessa di artefatto no c'è un elemento incredibile senza prezzo senza valore però per andare appunto a difendere magari il castello qualcosa da questa creatura quindi in questo caso qua si si può prendere il non spendere tutti i pm fisicamente c'è magari al 50 no al 50 non potrà avere 200 mp infatti i più attenti noteranno che 200 mp è molto difficile ma è fatto apposta cioè in qualsiasi in qualsiasi gioco di ruolo anche nel gioco più famoso del mondo c'è la cosa più sottovalutata che nessuno utilizza le componenti ovvero le componenti che invece sono molto belle se ci fai attenzione sono molto belle se no cosa serve avere il sacchetto dei componenti o avere i catalizzatori e via dicendo in questo caso qua in fabula i componenti possono essere anche semplicemente non lo so volete creare un un incantesimo appunto che crei dei lampi che siano una tempesta di lame che ne so qualcosa del genere no se a che livello storico avete trovato la katana del dio imperatore usate quella lì come catalizzatore cioè sta anche a voi in base alla campagna che state giocando in base ai loot che avete preso e che non utilizzate noi abbiamo svariati loot che non utilizziamo che utilizziamo un po come se fossero degli investimenti no se dovremo comprare delle cose magari li vendiamo oppure li diamo al dopo vedremo nei progetti vedremo le cose da dare magari al nostro all'altinkerer o appunto da utilizzare per i rituali la cosa però che non dovete fare è impelegarvi e bloccarvi sui rituali perché in realtà i rituali sono una delle cose più divertenti assieme alla creazione del mondo esattamente come voi andate a creare il mondo ovvero andate a rendere vivo qualcosa che state pensando nella vostra testa no stessi identica cosa se voi magari state scappando e volete creare una cortina di nebbia per far sì di far perdere le tracce ai vostri ai vostri inseguitori o volete creare un'immagine illusoria dei vostri personaggi che in un bivio quindi gli inseguitori vedono che andate da entrambi i bivi così potete utilizzare i rituali l'unica grande differenza e dovete ricordarvi che questo è un errore e su quell'errore che facevo sempre io sempre io che mi ha l'ho scoperto parlandone con Emanuele è solo una regola molto semplice se siete out of combat il rituale si risolve tutto con un semplice tiro se siete in combat il rituale si svolge come se fosse un orologio esatto rituali mi collego a una domanda che c'è stata prima su telegram allora per chi non è la persona che sta conducendo il rituale ci sono due modi di aiutare il test di gruppo che potete vedere in alto a pagina 120 e questo questa è un'opzione che si fa quando viene fatto il test finale di magia del rituale però per poter aiutare in questo modo bisogna conoscere la stessa disciplina quindi non è così scontato dopo parliamo un attimo delle discipline perché anche su quello ho visto della confusione l'altro modo di aiutare durante i conflitti invece è portare avanti l'orologio ora non dovete per forza essere incantatori per portare avanti quell'orologio come tutti gli orologi ha un obiettivo in questo caso raggiungere la concentrazione magica per dare inizio al rituale ma non è limitato negli approcci quindi qualunque cosa pensate in modo cinematografico voi vedreste in un anime quando il mago comincia a recitare la formula e il resto del gruppo gli si stringe attorno quelle cose possono tutte lavorare in funzione del rituale il guerriero che si para a metà tra il drago e il mago e si gira verso il mago e gli fa un'espressione rassicurante e lavorare su quell'orologio come lo è fare provocazione che però non porterà avanti l'orologio ma assicurerà la protezione del mago ricordatevi che la stessa azione narrativamente a seconda di che cosa volete che comporti meccanicamente può essere cose differenti dare una spadata può essere un attacco oppure può essere lavorare su un orologio per disarmare qualcuno dipende da che cosa vogliamo inseguire a livello di obiettivi per personaggi in alcuni contesti che siano puramente non magici e che non abbiano veramente nulla per interagire con il rituale può effettivamente essere difficile partecipare consiglio personale non impelagatevi in quel tipo di rituale in un contesto dove alcuni personaggi non hanno niente da dire ma questo è un consiglio di gameplay ed è anche un po' un consiglio lato game master di non andare a porre il gruppo in una situazione dove una sola persona può brillare se quella situazione non è un singolo test cioè se c'è un conflitto tutti dovrebbero avere qualche cosina da fare se no ve la chiudete con un test di gruppo e via e la raccontiamo come una scena veloce esattamente come in un film ricordatevi sempre i test, i conflitti e gli orologi come strumenti di regia non gireremmo una scena prolungata dove ci sono tutti i personaggi se soltanto uno ha qualcosa da fare esatto salutiamo piga che sta andando e volevo parlare un istante delle discipline per chiarire una piccola cosa non pensate alle discipline come dei campi chiusi cioè ci sono sovrapposizioni se io voglio placare un drago potrei fare chimerismo così come potrei fare spiritismo mentre se io voglio placare la furia di un golem potrebbe essere spiritismo perché sto influenzando le emozioni oppure potrebbe essere ritualismo perché il golem ha dei circuiti magici e io potrei fare sostanzialmente hacking dentro il golem l'ultimo grande chiarimento è il ritualismo è un tipo di rituale lo so è un po' infelice il nome ritualismo ma purtroppo ricchi premi per chi troverà un nome adeguato comunque fondamentalmente il ritualismo per chi ha difficoltà a capire che cos'è è hacking se vogliamo è hacking del tessuto spirituale delle cose però dove queste hanno già una qualche forma di concentrazione magica per esempio se ci troviamo all'interno dell'albero della vita parlare con le anime dei morti potrebbe essere ritualismo perché c'è già l'albero della vita che fa da tramite al di fuori di questo più probabilmente è spiritismo oppure arcanismo se ho un arcano che ha dei domini collegati all'oltretomba per dire tra l'altro sempre parlando di dipendenza dal contesto se voi avete stabilito a livello di lore del vostro mondo che non si parla con i morti quel rituale non si può fare a meno di guardarsi e dire vogliamo cambiare questa premessa e come colpo di scena invece si può parlare con i morti in certe condizioni quindi capite che anche questo è un elemento importante cioè siccome l'ambientazione è creata da voi anche che cos'è un rituale e che cosa non lo è e idem per i progetti il livello di tecnologia eccetera sono qualcosa che dovete stabilire come tutte le opzioni freeform mettono delle responsabilità sul gruppo di gioco allora sta facendo anche delle domande allora una domanda che hanno trovato sull'annuale chiede Mylord Zanz in senso salutiamo Mylord quando si apprende una magia non si può più cambiarla man mano che passa il tempo giusto? cioè se prendo barriera mi rimarrà per sempre senza poter cambiare con guarigione per esempio? sì l'unica eccezione è il chimerista perché ha un limite di magie che può memorizzare e quando ne impara una nuova se vuole se al massimo ne deve perdere una vecchia e decide quale perdere ma altrimenti ti restano per sempre fermo restando che in generale io non avrei nulla in contrario se per esempio si chiude una stagione diciamo della campagna e ritroviamo i nostri eroi un anno dopo cioè a fare il rebuild del personaggio questo è molto Final Fantasy XIV da espansione espansione sì esatto ma dire la verità se tu pensi io adesso abbiamo iniziato per farvi capire la seconda parte della nostra campagna il mio personaggio qua c'è Marco che fa l'esempio Yuna da 10 al 10 2 sono due personaggi completamente diversi esatto ma ad esempio Ryza tutto così per citare un personaggio a caso da Balanced Sorcerer a Red Mage molto banalmente cioè la cosa bella vedrete man mano che andrete avanti nel gioco specialmente superato direi il livello 15 quindi quando iniziate ad avere delle combo veramente iper mega cicciose e avrete inizierete a fullare una classe inizierete ad avere magari già dei livelli interessanti sulla seconda terza classe vedrete come pian piano potrete letteralmente switchare da un job all'altro ad esempio io che tra i miei livelli nel mio personaggio ho anche il maestro d'armi ho l'elementalista ho lo spiritista se è una scena dove vedo che i miei compagni stanno venendo troppo ammazzate e sono degli imbecilli che non si prendono le pozze allora vado nelle retrovie e curo baffo e via dicendo se vedo che c'è bisogno di attacchi mele perché il nemico è vulnerabile agli attacchi mele mi butti mele e switcho maestro d'armi se invece servono incantesi mi torno indietro e switch elementalista se vedo che bisogna un attimino fare la skill monkey e debbaffare il boss vado dietro e gioco dentro pista ed è e questo non è che lo fa solo il mio PG ce lo facciamo tutti all'interno del gruppo ed è bellissimo perché le combo iniziano ad esserci in base alle varie classi in gioco è una delle cose che personalmente però da giocatore mi esaltano di più perché reputo i combattimenti di fabula cioè due ore e mezza di combattimento a D&D mi rompo le balle perché è sempre la solita cosa tiro il D20 e vedo cosa faccio in fabula invece c'è il dialogo tra gli altri giocatori allora se adesso li mettiamo li mettiamo uno stop tu li cassi accelerazione adesso lo riedi cambio la vulnerabilità nel ghiaccio tu dopo gli tiri un doppio incantesimo devastante no ma aspetta cambiamola in fuoco perché ho vulcano ah perfetto allora cioè è tutto così e c'è il classico combo da 9999 no? ed è una delle cose belle di fabula quando ti trovi che fai il tuo primo 200 danni e non è che lo fa il personaggio che ha tirato l'incantesimo perché 200 danni sono eh dati dalla sinergia di tutto il gruppo quindi eh non è il fatto a cacchio lui ha crittato no eh oddio che figata abbiamo fatto è bellissimo grazie Faber DM anche tu decimo mese ragazzi iniziamo a essere cifra doppia quindi provate cioè osate cercate veramente di fare eh eh di inventarvi più rituali possibili ma eh utili eh ricordatevi la regola se può fare un altro personaggio presente nel gruppo non fatelo se può farlo un punto fabola utilizzate il punto fabola per due motivi uno è narrativamente più interessante descrivere che cosa potete fare con un punto fabola due vi da XP tre scusa gente sembra che non voglio livellare eh tre utilizzate eh il rituale solo diciamo inventandovelo voi di volta in volta poi nulla vi vieta io ho dei rituali che mi sono piaciuti particolarmente ad esempio è quello ho utilizzato un rituale per eh leggere la mente dei miei eh nemici no quando mi vogliono far domande quando mi vogliono far cose mi piace molto io appoggio la mia testa contro loro e vedo se sono stati se hanno mentito se sono stati sinceri oppure no che è un rituale che si può fare senza problemi ed è un rituale che io ho imparato e uso quasi eh come se fosse un incantesimo no cioè non è che ogni volta chiedo master master voglio usare il rituale e scopri verità ormai commino il mio master l'ho usato già un tre quattro volte forse anche di più all'interno della campagna ed è come se fosse diventato un incantesimo in più cioè mi sono segnato quanti pm costa mi sono segnato come funziona e via dicendo quindi è è anche bello perché è come avere il proprio grimorio no poi puoi usare i rituali come vuoi cioè in base a quello che sei elementalista facciamo l'esempio prima c'è una lunga ehm cliff come si chiama una scogliera scogliera c'è una scogliera siete elementalisti avete ventus tra i vostri tra i vostri incantesimi create un rituale del vento che crea come questa specie di tornado sui piedi del vostro gruppo e vi porta in cima alla alla cascata c'è un incendio che sta bruciando dovete usare salvare create con glacis un cono di ghiaccio che vi permette di bloccare il fuoco intorno a voi e salvare la persona utilizzate le skill del vostro personaggio per creare gli incantesimi se siete un elementalista siete un chronomage qualsiasi cosa cioè sfruttate appieno queste queste cose rispondo brevemente agli erasus credo sia gli erasus se no è l'erasus un rituale stile bastone di gandalf che illumina l'ambiente circostante allora se è una cosa puramente descrittiva perché tanto considera che il gruppo normalmente si dà per scontato che abbia delle torce simili può anche non costarti nulla cioè se fa solo scena se invece siamo in una situazione al buio dove il buio è un pericolo serio e il gruppo per qualche motivo non ha accesso a fonti di luce probabilmente sarebbe un rituale minore dal mio punto di vista cioè ha una durata limitata e come area il bastone di gandalf probabilmente sarebbe piccola perché non credo che avrebbe che fosse una luce una luce così grossa da essere grande quindi sarebbero 40 pm e difficoltà 7 devo anche dire una cosa però i rituali possono fallire e possono e hanno effetti catastrofici quando lo fanno proporzionali ovviamente a che cosa volevi fare in molti casi quindi non conviene farli futili cioè c'è una come dire un certo filo di magia warhammeriana in tutto questo la gente non fa i rituali per accendere le candele se può accenderle con con un fiammifero ci sta che un personaggio che abbia ricordiamolo sempre le identità sono importanti per quello che si fa in scena se la tua identità è appunto maestro stregone io non verrò romperti le scatole per accendere una luce su un bastone perché è già una cosa che normalmente tu potresti fare con una torcia quindi ricordiamocela questa cosa secondo me possiamo passare ai progetti sì volevo un attimo rispondere a una domanda perché quello che vi dicevo ci sono già incantesimi che fanno determinate cose Ares chiedeva ma volendo si può fare in modo di potenziare un incantesimo con un ricurare chiedo ad esempio come flare mega flare giga flare no perché c'è cataclisma l'elementalista è già fa esattamente questo puoi prenderlo fino a tre volte e ti fa aumentare la potenza dell'incantesimo non è come blizzard e blizzare e blizzaga stai senti che cosa quindi non puoi usare un rituale perché c'è proprio una delle abilità dell'elementalista cataclisma che prende fino a tre volte che ti aumenta i 5 10 15 il danno dell'incantesimo purtroppo prima era 10 20 30 ma non si sa perché Emanuele ha voluto cambiare casualmente tra l'altro tra l'altro totalmente casuale che adesso le danze del danzatore cambino gli elementi solo agli incantesimi offensivi perché non puoi più fare cometa e vulcano cambiandogli elemento casualmente ma perché non è colpa mia cioè che sia chiaro quello non è colpa tua quello è proprio che mi sono reso conto che il bello e il fattore bilanciante di cometa e vulcano era che avevano un elemento oppure nessun elemento se io invece lo posso cambiare in libertà ci sono comunque modi di farlo ad esempio la peculiarità dell'anima elementale può cambiargli l'elemento però con uno il proprio e gli altri modi che ci sono richiedono comunque un turno di distanza tipo col bardo cose così in cui il nemico può fare qualcosa allora Duramanser ha scritto una cosa che non so dove ha letto una delle regole più belle secondo me è se sei senza punti favole in inizio sessione ne prendi due io non la conosco se regole un punto prendi se sei senza non due ok ma se un pg non ha la classe dell'elementalista non può farlo giusto no ares non può farlo non puoi aumentarti un incantesimo per il semplice fatto infliggi direttamente dei danni quindi non puoi non puoi aspetta che c'è però eric che ci ha scritto che aveva una domanda lunga ma non gliel'ha fatta postare in fase di generazione delle minacce abbiamo deciso che un antico male si è risvegliato a sud del mondo vi è una grande isola dove dimorano mostri giganteschi e creature leggendarie che però sono rimasti lì senza dare fastidio al resto del mondo improvvisamente i continenti hanno cominciato a subire attacchi casuali da questi mostri colossali da master ho chiesto ai giocatori che cosa ha risvegliato i mostri e mi hanno detto di non volerlo sapere che vogliono la sorpresa la mia domanda è si può non definire tutti insieme la principale fonte di guai in emesi e lasciare tutto nelle mani del master o è meglio definirla con il gruppo digli di non fare i pigroni no ma digli che non devono decidere adesso a parte quello a parte quello che può cambiare ma se i loro personaggi non hanno dei filoni se questo è uno dei filoni del mondo ricordiamo che le minacce dovrebbero essere una per partecipante se una minaccia misteriosa ci sta le altre devono in qualche modo essere collegate ai personaggi e collegate all'incipit al prologo di campagna perché altrimenti non partite quindi ci sta di avere una cosa misteriosa non può essere tutto così perché perché ti mette un carico allucinante cioè non può si può fare è molto pesante nel senso la creazione del mondo condivisa serve per scaricare parte di questo peso quindi allora vedi Wallowinds era scritto una cosa che mi era fatto anche la domanda ma mi era dato anche la risposta dell'abilità Vulcano fondamentalmente dice Vulcano fa danni da fuoco posso dargli che ne so Mega Iceberg o Tempesta di Neve fa la stessa indica cosa però fa danni da ghiaccio allora per ciò che riguarda come diciamo sempre non c'è la pulizia di GDR puoi fare quello che vuoi ricordati che ci sono svariate abilità che possono cambiare il tipo di danno che fai alle a per cambiare l'elemento di Vulcano sarebbe necessaria o la peculiarità ad esempio quella anima elementale tipo sei l'anima del ghiaccio puoi cambiare l'inghiaccio oppure il simbolo del simbolista che però costa 10 MP addizionali a ogni casting oppure un bardo che selezioni il bersaglio o meglio che selezioni tipo beh o il o i bersagli del vulcano e dica che la prossima volta che subiscono danno il danno diventa di un certo elemento esatto e anche questo è a uso singolo oppure puoi creare varianti dell'eroica non consentirei di prenderne più di una perché se c'è il fattore bilanciante è proprio che Vulcano è limitato a quell'elemento allora io personalmente lo uso spesso Vulcano e semplicemente faccio la combo accelerazione quando ho accelerazione anomalia Vulcano quindi se c'è il se c'è il fatto che so che è immune al fuoco e tutto quanto personalmente io da master consolerei se il giocatore mi dice nico al posto di avere Vulcano posso avere Saetta di Zeus e faccio danni al posto sì ma non che ogni volta che tu prendi un'eroica puoi prendere la variante ci sarebbero problemi a concedere ad un player lo stesso incantesimo quindi ma che fa danni di un altro elemento quindi al posto di Vulcano chiamarlo che ne so è tsunami e fa danni di ghiaccio o io l'ho capita così per me tra l'altro c'è un modo per arrivare a una cosa simile più debole che sempre solo però per l'area grande che è devastazione cioè se sei un chimerista e impari varianti di devastazione con elementi diversi da nemici differenti effettivamente hai i 30 danni allora posso dirti una cosa le persone non hanno capito che il chimerista è forse l'incantatore più devastante che ci sia l'Emanuale il chimerista è veramente devastante perché loro lo vedono che ha sto bastone tutto quanto a parte che nessuno ha capito la bellissima citazione di chi ha queste immagini però va bene nessuno ha capito la bellissima citazione di quegli addominali vabbè nel senso non gli rivolgo non rivolgo più la parola a nessuno perché lo vedo di costi il chimerista è tipo un domatore pensano a quello chimere e roba del genere il chimerista io non lo uso perché perché altrimenti faresti schifo già faccio schifo ragazzi io faccio veramente schifo io non lo faccio apposta cioè Raisa è boh è immortale fondamentalmente cioè mini impazziste ma il chimerista cioè è il blue mage cioè nel senso non è che ci voglia molto a capirlo basta vedere ma uno uno che ha un minimo di conoscenza dei jrpg e della saga di final fantasy legge magi mimesi e dice ah è il blue mage è logico che non abbiamo fatto il blue mage perché noi non vogliamo che le persone giochino l'ottimizzazione devi giocare quello che hai voglia quindi questo qua potrebbe essere una furia che ha il bastone magico che gli permette di copiare le skill cioè capite questo ma il chimerista è devastante c'è devastazione è una roba da fuori di testa poi per chi si annoia facilmente è anche sempre stimolante che è una cosa piacevole ah Diego ci ricorda giustamente c'è anche una delle delizie dello chef che cambia il tipo di danno inflitto sì che se le persone ci sono troppo brave stanno meglio il playtest di noi quindi c'è io salto apposta quella domanda lì non voglio sembrare così stupido c'è nel senso dai passiamo passiamo ai progetti che è più veloce esatto allora adesso cambiamo sui progetti che tra parentesi progetti alta linguetta 134 allora mettiamola qua anche 134 scusate se ci vedete piccoli non potete vedere l'incredibile bellezza mie di Ema però la prima cosa la prima cosa da leggere sui progetti non sono le regole sui progetti ma è come usare i progetti ricordatevi sempre dove c'è la guaritrice con il ditino significa che è fondamentale quella roba le regole dei progetti sono molto flessibili ma sono state progettate haha per consentire la creazione di qualcosa di unico e mai visto non per duplicare ciò che si trova normalmente sul mercato e dovrebbero anche essere usati per fornire soluzioni innovative ai problemi quindi tutte le domande del tipo ma l'artefice può creare un'arma base ma l'artefice può creare un'arma rara per quanto si chiamino armi rare rientrano nelle cose che puoi comprare perché hanno un costo non ci dovreste fare i progetti se volete farvi le armi con le qualità speciali prendete l'eroica miglioria dell'artefice che è una eroica estremamente buona se siete in grado di raggranellare soldini se volete fare schifo usate il mercante dal playtest così i soldini li avete per forza vedete bene che il primo punto qui dice se un personaggio desidera creare più copie di una stessa invenzione ciascuna copia rappresenta un progetto separato rendere le invenzioni degli oggetti prodotti in serie grassetto finirà inevitabilmente per rompere il gioco ok questa cosa è fondamentale di nuovo torniamo sul discorso di prima regola molto libera uguale responsabilità elevata nel modo in cui la si usa secondo punto i progetti richiedono tempo se il gruppo ne perde troppo i cattivi non se ne stanno certo con le mani in mano terza cosa le scene di interludio sono perfette per raccontare lo sviluppo di un progetto ma vabbè questa terza è più è più accessoria qual è qui la cosa importante fabula ultima non è un gioco a quest stile dnd non esiste il downtime a meno di casi molto rari è un gioco dove la pressione è sempre presente come quando uno si riposa tendenzialmente i piani dei cattivi vanno avanti anche qui per i progetti vale la stessa cosa ad esempio soprattutto se qualcuno ha l'artefice con l'abilità visionario può sembrare sbagliato che tu sostanzialmente in una settimana ti costruisci un golem il punto è che se io penso alla campagna che abbiamo giocato è durata tre settimane da livello 1 al 50 cioè in tempo nell'ambientazione quindi una settimana in realtà è un terzo di campagna potenzialmente se i ritmi invece sono lentissimi ovviamente i progetti cominciano a diventare qualcosa che è fin troppo generoso per certi versi fate attenzione a questa roba qui l'altro aspetto importantissimo e su questo è anche stata fatta un'errata nel senso che non è che fosse sbagliato quello che c'era scritto ma ho voluto aggiungere nella prossima tiratura ci sarà una riga che ribadisce il costo del progetto quindi gli zeniti materiali anche l'eventuale materiale sostitutivo va tutto pagato subito non esiste che lo iniziate pagando nella prima parte poi ne pagate un'altra dovete avere tutto quanto subito quello che avviene nel tempo sono i progressi ok e diciamo che non è che siete obbligati a stare fermi in un posto se l'invenzione è qualcosa che potete portare con voi ci lavorate anche mentre viaggiate chiaro che lavorare su un'aeronave invece spostandosi diventa un pochettino più difficile ma ci sono sempre le regole per assumere gli aiutanti che quindi passivamente creano progresso su quell'aeronave quindi queste sono le criticità più comuni che ho visto esplorate dopodiché lascio a Nico che sicuramente avrà altrettanto da dire allora esempio una delle qua vedete un po' di esempi di progetti usateli usateli veramente per farvi ispirare naturalmente noi c'è quello che le persone vogliono essendo un JRPG è la Discovery la Discovery altro non è che la nave volante noi adesso abbiamo una nave volante sgravatissima gigantesca con più di 50 persone di equipaggio una roba enorme ma perché l'abbiamo droppata abbiamo fatto un po' di disastri in realtà abbiamo proprio una abbiamo fondamentale Enterprise ma pensate ai progetti anche per delle figate ad esempio lo spuntone negatore un qualcosa chiamato spuntone negatore una roba carina in realtà è un anti magic shield fondamentalmente pixel art fatta da me tra l'altro infatti è quella più brutta di tutte fa veramente cagare è inguardabile una roba disgustosa nel senso pensate a veramente specialmente se allora giocare la classe del tinkerer come si chiama in italiano il tinkerer tra parentesi artefice ho ancora difficoltà ho giocato per troppi anni in inglese è fabula eh lo so il la classe dell'artefice è una classe meravigliosa se poi fate un artefice mercante anzi artefice viandante mercante è proprio c'è qualcosa di meraviglioso no c'è c'è Rosencrantz sul telegram che è anche mio patron che lo sta giocando con l'alchimia il mercante alchimista il farmacista diciamo e fa dei botti c'è bellissimi voi iniziate a pensare a che cosa potrebbe servire cioè venite tutti quanti da penso abbiate tutti un minimo di background da giocatirici o giocatori di ruolo no quindi pensate ai vari loot pensate alle varie cose ma pensate alle varie cose che possono servire per quella campagna esempio se voi siete tutti quanti e decidete che il vostro mondo è composto da delle isole volanti no e quindi vi dovete trasferire da una parte all'altra non ha magari senso avere degli stivali che vi permettono di camminare sull'acqua perché magari acqua non ce n'è se siete spesso nei cieli potrebbe essere utile invece non so degli stivali che vi permettono di camminare sull'aria o degli stivali vabbè gli stivali mag questi qua che sono come degli stivali magnetici e soprattutto non partite subito ah voglio un esoscheletro gigantesco che mi permette di volare cioè no da questo punto di vista nota se volete il mac magari valutate la classe pilota se volete un golem al vostro fianco magari valutate dei livelli da viandante non perché siano più giusti o più sbagliati ma perché sono più semplici di solito cioè è meno sbatta perché per tutti voi il GM il gruppo dovete sapete che un elementale del ghiaccio sta atteccando la città di Liberia e pian piano sta ghiacciando tutto quanto arriverà in città tra quattro giorni mi sto inventando allora lì l'artefice inizia a creare delle pozze antigelo o cose del genere ricordatevi che è molto bello utilizzare dei progetti one shot cioè nel senso che scusatemi dei progetti che tipo delle pozioni come esempio del piro succo il gasso porifero che tra l'altro è una dell'errata perché è sbagliato però hai capito che cosa intendo cioè fare cose cioè il fatto che un artefice continui a creare oggetti a manetta e se li porti in saccoccia ma è bello da usarli anche nei combat out of combat come buff come debuff tanto fidatevi che non è che potrete crearne un'infinità proprio perché le cose tendono a precipitare molto rapidamente esatto in fabula se non stanno precipitando rapidamente vuol dire che non si sta mettendo pressione e sta mancando uno degli elementi diciamo equilibranti di questa dinamica l'altra cosa è che capisco che in alcuni casi tipo quello dell'elementale uno dice e vabbè ma è molto più semplice spendere un punto fabula per dire che qui vive un grande drago dei ghiacci e andare a chiedere la sua protezione sì cioè ci sta uno dei fattori di equilibrio dei progetti è che non sono sempre la cosa migliore da fare di nuovo esattamente come i rituali ci sta di non impelagarsi quando ci sono delle opportunità più semplici però ci sono cose che solo i progetti possono fare soprattutto a quei costi e soprattutto sono lì per coprire come i rituali sono gli incantesimi di utility i progetti sono i consumabili di utility nicola faceva l'esempio che è bello avere dei consumabili invece di avere la la pozione dell'alchimista che ti dice che fa l'effetto dell'incantesimo sonno tu puoi crearti la pozione soporifera che tra l'altro è uno degli esempi di progetti guarda che bello quindi se ti giochi se ti giochi una strega che è al calderone potresti avere l'artefice che ha alchimista e per le le pozioni diciamo non combattive non di recupero usa invece le regole per i progetti per fare tutti i consumabili addirittura il gourmet una delle classi in playtest ha pentola magica che consente di fare progetti ma solo di tipo alimentare e quindi per forza consumabili oppure puoi usare un pilota gourmet così per fare un esempio a caso di un PG meraviglioso che fa il venditore di Takoyaki però vabbè Francusso dice una cosa molto bella che è un po' quello che stavamo dicendo adesso domanda sui progetti nelle schede del gruppo ci sono delle righe vuote sotto gli oggetti standard da creare con il punto inventario un progetto potrebbe essere creare la ricetta per un nuovo oggetto consumabile disponibile per tutti torniamo un attimo a quello che stavo dicendo letteralmente 5 minuti fa prima regola del come usare i progetti se desideri creare più copie di una stessa invenzione ciascuna copia rappresenta un progetto separato quindi no o meglio di nuovo niente polizia del GDR ma personalmente quelle righe sono lì perché alcuni gruppi potrebbero voler introdurre degli oggetti da inventario che non fanno parte del del normale per esempio uno tra tutti la piuma di fenice o equivalente che ti riporta su dagli 0 pv in fabula non c'è per evitare che i conflitti vanno avanti per 9000 round ma c'è chi vorrà mettercela perché vuole giocare final fantasy e sentirsi in final fantasy che ne so 6 punti inventario per riportare a 10 pv un alleato a 0 onestamente costando magari 5-6 punti inventario si autobilancia questa cosa perché non è che la farai tante volte e e allora ci sta di metterla lì ci sta anche di fare un progetto per scoprire un oggetto da inventario in questo caso la durata è permanente però non è consumabile perché ricordiamoci l'effetto è qualcosa di permanente cioè non facciamo i furbi se poi posso sempre attingere ai punti inventario per usarlo allora è un'invenzione permanente però naturalmente francuso io ad esempio lo utilizzerei come hai fatto tu il l'artefice crea scopre come fare grazie a un cristallo del gelo o cose del genere dei consumabili che possono riparare dal gelo come punti inventario per un turno puoi avere una riduzione dal danno però ragazzi spendere 3 punti inventario nei 6 cioè è tanto cioè devo scegliere cosa faccio prendo la vulnerabilità la scusami la resistenza al ghiaccio o mi prendo una pozza quindi se voi volete aggiungerlo come abbiamo fatto la sessione sulla polizia di gdr la live sulla polizia di gdr che non esiste il gioco è vostro cioè nel momento in cui voi volete giocare a fabula il gioco è vostro per me è una bella idea è una bella idea perché c'è un vantaggio a un costo no? quindi c'è si può fare senza problemi se invece dici no e voi prendete questa pozza e per sempre siete invulnerabili al freddo non lo permetterei perché c'è ok io spendo 3 poi per tutta la campagna sono resistente al freddo non ha non ha 100 come dice Svi l'importante è che si è equilibrato e non sbilanci il gioco qua si torna al fatto che prima scrivevano mi prendevano in giro che io scrivo sempre sulla nostra chat di telegram io faccio sempre nemici rotti no? in realtà io non faccio nemici rotti in realtà faccio nemici di fabula ultima siete voi che dovete capire come rompere i miei nemici rotti perché fidatevi che ogni villa in ogni cattivo che io faccio ha sempre delle grosse vulnerabilità ma finché le persone continuano a ogni turno attaccare attacco curo attacco curo attacco curo beh allora io viarerò la faccia ma godendo quando imparerete a fare studio quando imparerete a utilizzare le abilità dei vostri PG che non siano puramente d'attacco o di danno ma quando iniziare a usare il pensiero laterale come ehi questo qua un braccio di fuoco un braccio di ghiaccio però ci sono molte altre vulnerabilità pensate a questo sai che siamo negli ultimi nell'ultimo quarto d'ora perché poi devi andare ma ci stiamo ricollegando a una cosa di cui parlavamo prima della live questo esula diciamo che si è chiuso l'episodio sui sui dubbi questo esula un pochettino ma una cosa fondamentale e direi che questo esula anche da fabula perché in realtà è come interagiamo con i giochi e capire la premessa del gioco cioè capire gli strumenti che ci sta dando e quindi probabilmente che cosa vuole da noi o comunque come vuole farsi giocare se un gioco nel caso di fabula ti dà tutte le vulnerabilità elementali ti dà buff e debuff e ti dà l'opportunità di studiare i tuoi avversari probabilmente si aspetta che tu utilizzi queste cose che le utilizzi come GM per costruire delle situazioni che le utilizzi lato player per affrontare quelle situazioni ma non diversamente da giocare a un persona o uno Shin Megami Tensei senza fondere mai i demoni cioè non è che non si può fare lo capite anzi in alcuni casi ci fanno le hardcore run su questa cosa per dire Dark Souls senza evocare questa è una cosa che mi piace sempre citare perché la reazione di Detaka Miyazaki diciamo lead designer di Dark Souls quando gli hanno detto che la gente faceva delle run senza subire danni o delle run senza evocare è stata ah ma non era cioè ah boh io il gioco l'ho fatto perché non potessi non prendere danni cioè interessante che ci siano riusciti ma non è che il gioco lui l'ha scritto perché la gente potesse farci le no death run o le no damage run per la natura del medium alla fine ce le puoi fare ma comunque battere un boss usando gli amici che hai evocato non è non stare giocando il vero Dark Souls ok non voglio farlo diventare un discorso su Dark Souls ma avete capito il concetto i giochi offrono degli strumenti e quindi quegli strumenti ci sono per essere usati non usarli significa che poi probabilmente qualche cosa scricchiolerà quindi bisogna capire quali sono gli strumenti che ti sta dando il gioco se è un old school essentials e ti sta dando le capacità delle classi se è un Dungeons and Dragons e ti sta dando gli slot se è il re in giallo e ti sta spiegando come si ottengono gli indizi cioè tu devi prendere che cosa ti dà il sistema e volerci interagire non è sempre facile capire che cosa vuole il gioco da te poi dipende anche da come si spiega il gioco da quanto è semplice è proprio la dichiarazione di intenti del gioco bisogna capire il gioco esatto ad esempio My Lord Zanz adesso perché farvi capire la differenza di come uno può capire il gioco una livella ci ha chiesto una domanda a livello di build PG support debuffer classi entro sapiente spiritista può andare come dovrebbe spendere i suoi primi 5 livelli per l'abilità guarda io non lo farei così io lo farei entro oratore spiritista dove farei proprio super debuff e diciamo e support dove farei di entropista prendere due incantesimi mi piacciono molto fondamentalmente del crono mage che sarebbero stop e accelerazione del sapiente non lo metterei metterei l'oratore dove metterei condanna e incoraggiamento e lo spiritista prenderei un guarigione questo qua è un personaggio che dà dei debuff della madonna e dà anche dei buff e delle cure incredibili ma soprattutto per ciò che riguarda diciamo il la parte di combattimento no? qua ti sto dicendo buff e debuff ma soprattutto invece nell'altra nell'altra faccia della medaglia di fabula no? che è la parte narrativa è un personaggio me lo immagino estremamente bravo a parlare me lo vedo abbastanza altolocato non dico di nobili origini ma comunque di cultura e lo farei assolutamente così come 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 pg poi naturalmente andando su gli metterei logicamente sette bello perché per me è la skill più bella dell'entropista gli darei sicuramente degli altri in base a come voglio ruolare il personaggio magari degli incantesimi specifici che hanno delle vulnerabilità specifici ovviamente lux del dello spiritista l'oratore è un personaggio che proprio entra in sinergia col gruppo lavora proprio per il gruppo quindi a questo punto io lo farei così per la multitavolo di di dell'advento dell'advento io giocherò fecfa building ed è tre livelli entropista un livello oratore un livello sapiente ogni ti prego dimmi che hai il diotto e non il di sei in vigore ovviamente ok ovviamente ecco ho detto a rosso ho detto a rosso che poi dava un'occhiata al documento sui consigli il primo consiglio sarà cercate di avere almeno 40 punti almeno ma per un motivo semplice non sapete chi avete al tavolo non è detto ci sia qualcuno che può proteggervi esattamente e poi soprattutto guardate sempre i punti inventario l'altro consiglio sarà questo sì allora l'altra cosa è raga non dimenticatevi che il primo passaggio è scrivere un'identità non è scegliere le classi e per questo c'è un motivo partite da un concept non partite dalle classi perché altrimenti arrivate al tavolo con faccio spezza ossa con multi e poi dopo nel momento in cui si chiede cosa volete fare ti paralizzi perché non c'è il png che ti sta dicendo qual è la quest di uccidere i dieci cinghiali partite dall'identità fate fate le cose in ordine non sto scherzando capita anche a me di partire da ah che combo fighissima quando ho un sistema crunch per le mani e poi mi rendo conto che non ho pensato a chi è la persona che poi andrò a giocare perché magari non mi piace giocare il tipo di persona che avrebbe queste classi e vi assicuro che puoi avere la combo più bella del mondo ma se non ti senti il personaggio non non ti divertirà non ti piacerà l'esperienza c'è una domanda di Rollo20 che non ho capito che forse ho capito ma mi sembrava strano il furto quando lo metto centrale far ottenere oggetti rari e potenti ai personaggi ma guarda siccome l'unico furto più bello è quello che può fare la canaglia inteso tra virgolette così sì sì ma infatti uno dei personaggi ha quella capacità lì non deve essere centrale nel senso può essere logico se fa un furto su un cattivo o su un malvagio è estremamente interessante ma se no una cosa che io sto usando molto in fabula sia da giocatore che da master è la loot list chiamiamola così quindi i giocatori mi chiedono che cosa vorrebbero ricevere nel corso nel medio termine per il loro pg e io li faccio avere o come loot o semplicemente il classico vado in un paese e ogni volta che vado in una location nuova e sono più grande di livello ho degli oggetti più fighi sì poi ricordiamo che come detto a pagina 249 le ricompense di ruba spirito sono in aggiunta a quelle normali esatto infatti per quello di furto non lo so ricordatevi quello che sta parlando Emma di pagina 249 sono le classi per il GM c'è nel senso esatto quando i vostri personaggi fanno una classe voi non è che pensate ok la mia avventura hanno fatto questo mondo qua adesso mi immagino che succeda questo questo e questo e questo no una volta che hai fatto il mondo avete fatto il kick off della campagna magari la iniziate la sessione successiva fate intanto il kick off e improvvisate la cosa bella la prima sessione farà così e guardate che classi hanno scelto i vostri personaggi no i vostri giocatori e in base a quello vedete come inserirgli all'interno della campagna le cose che possono interessarvi è questo che dovete fare e ricordatevi che forse in fabola è uno dei giochi di ruolo dove i vostri giocatori sono la vostra arma talvolta avete il vostro strumento per creare trame avvincenti perché le faranno loro e voi semplicemente infiocchetterete il tutto unendole a vicenda ma faranno tantissimi giocatori logicamente dovete cercare di far spiegare ai vostri giocatori di essere molto proattivi giocare a fabola con giocatori passivi allora a sto punto giocate a D&D ragazzi non ha è un'esperienza molto faticosa no non è faticosa è frustrante esatto perché è come avere una Ferrari e andare a 20 all'ora nulla ti vieta di andare a 20 all'ora ma consumi un botto e non sfuggi magari prendi la bici esatto esattamente se si stiamo paragonando fabola alla bici alla Ferrari e D&D a una bici per farvi capire ops allora oh no quindi fabola inquina D&D no finita finita è finita cosa è importante allora riguarda quello che dice Wall of Wizard in realtà è un grande classico che l'abilità ruba ti dia l'arma di un nemico ma quel nemico ce l'ha ancora in mano e comunque per come funziona ruba spirito ruba un'immagine spirituale che rappresenta la creatura da cui stai rubando ok è un effetto magico per chi ha visto Konosuba l'ispirazione era quella non che mi piaccia Konosuba però l'ispirazione di come funziona il furto mi è venuta da lì il fatto che puoi rubare a distanza se l'arma impugnata dall'avversario è una condensazione della sua anima allora potrebbe lasciarlo disarmato è un caso eccezione ed è una gimmick interessante per un boss ad esempio io avevo un boss nella campagna che se subiva furente andava automaticamente in break cioè perdeva metà della vita scusate break era il vecchio nome per la crisi e allora si chiamava break hai ragione esatto il tank del gruppo l'ha provocato e gli ha fatto tipo 230 danni perché eravamo ai livelli pazzi non è una cosa normale è una cosa che però quel boss ha quel trucco diciamo però la fai una volta come tutti i GRPG che si rispettino ricordatevi che la cosa che vi serve per sconfiggere il nemico la luti solo dopo che è sconfitto il nemico ovviamente mentre invece nel caso di ruba spirito se hai le mani libere per equipaggiarla addirittura te la metti subito faccio un esempio una cosa importante è che in fabula perdere uno scontro cioè il fatto che ci sia il tpk che in fabula non esiste ma il fatto che tutti i giocatori vengono sconfitti è molto bello o terminare uno scontro anche mentre si sta combattendo perché si inizia il dialogo ruba spirito c'è un vostro il parente di un giocatore un puntifabolo il fratello perso una grande troupe dei GRPG che adesso è il cavaliere braccio destro del cattivo fa ruba spirito e il ruba spirito gli ruba un ricordo qualcosa che si materializza come un disegno fatto da loro due da piccoli o cose del genere e il giocatore inizia a ruolare il fatto che lo riesce a portare dalla sua parte ma è bellissimo cioè ricordatevi queste cose qua non deve essere tutto un picchio 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 finché non lo porto a zero PF perché poi un'altra cosa che viene sottovalutata in fabula e per me è una delle cose più belle è che chi sconfigge il malvagio il nemico sceglie il suo destino sì se sconfigge il nemico che non ha da fuggire oh Gabrielle Croix sta facendo un raid insieme ad altri 60 tempi grazie grazie mille Gabrielle ricordatevelo questo eh cioè il fatto che chi sconfigge un cattivo può scegliere il suo destino è un'arma narrativa allucinante sì allucinante anche perché lì non c'è a meno dei punti ultima ma una volta che quelli sono andati non c'è regola che tenga se tu decidi che si pente e diventa un alleato questo succede sì è importantissima questa cosa qua ragazzi e ragazze ricordatevi le sue ricompense brevemente vi ricordo di guardare a pagina 265 perché c'è la sezione su creare ricompense interessanti che ogni tanto me la devo rileggere anche io perché non pensate che io abbia la conoscenza infusa e rispetti sempre tutte le premesse ogni tanto faccio delle cretinate abbiamo fatto l'episodio sugli errori apposta e e poi c'è anche la precisazione infatti sulle canaglie ma il primo punto del creare ricompense interessanti e il secondo sono molto importanti cioè deve essere qualcosa che interessa ai giocatori altrimenti stiamo perdendo tempo e deve raccontare una storia questa è una cosa molto importante in particolare per Ruba Spirito guarda cosa ha scritto Marco Bosnia scusatemi perché è veramente voi non dovete più pensare a D&D o a giochi tradizionali quando giocate a fabula cioè so che è difficile dovete veramente arrivare con una mente vergine perché le potenzialità di questo gioco sono incredibili le potenzialità narrative pensate a qualsiasi GDR avete giocato se voi sconfingete un nemico che quasi sempre può essere con un punto fabula una persona legata al vostro passato una persona appunto che voi volete legare al vostro gruppo e volete convertirlo cioè da villain farlo tornare dalla vostra parte pensiamo alla Bellatrix o a un sacco Beatrix scusatemi o a un sacco di altri PG di Final Fantasy o di Xenoblade Chronicles ad esempio con quei vari face che possono essere convertiti perché dire sconfiggo il cattivo che poi quasi sempre è il cattivo finale è sempre un'altra cosa perché devo ucciderlo cioè a livello di narrazione il combattimento finale sto qua fatto stragi per l'amor di Dio ci può anche stare ma perché io non posso convertirlo dalla mia parte e così ottenere tutti i piani del cattivo anche perché quello è un troppo molto importante cioè è uno delle basi noi abbiamo fatto ormai svariati mesi fa 5 live sui troppo dei JRPG di cui c'è anche il documento nella community c'è tutto quanto che abbiamo tradotto in italiano 192 troppo ovvero i cliché dei JRPG che sono i classici i classici proprio c'è quello che si vede sempre l'evoluzione del personaggio c'è meno D&D più i cavalieri dello zodiaco ma veramente Mattia ma anche più Star Wars cioè voi pensate alla fine del ritorno dello jedi cioè chiaramente Luke riesce a mandare a zero Vader e Vader si converte cioè Vader è colui la profezia colui che avrebbe riportato l'ordine della forza certo perché prende l'imperatore e lo scaraventa di sotto è questo cioè usate questi strumenti narrativi il gioco di ruolo è una narrazione condivisa ma voi vi rendete conto della potenza narrativa di uno scontro di questo nemico che avete odiato limitare a dire lo uccido invece dire limitare a dirgli cioè riesco a scoprire la parte buona della sua anima lui capisce i suoi errori c'era della magia magitek c'era del mana negativo c'era l'obscurità dentro di lui e riesco a convertirlo dalla mia parte quanti altri spunti per alte quest posso andare a farlo cioè vabbè Marco i film nuovi li stiamo ignorando tra l'altro su questa cosa che stai dicendo c'è quel personaggio che io vorrei poi giocare un giorno ci riuscirò Kepler che praticamente ha come tematica la vendetta perché quello che ha quello del samurai quello yaido esatto il samurai drago del ghiaccio che ha la sorella che praticamente è drago del fuoco che ha usurpato il trono e mi piacerebbe un botto che in realtà lei muore e io poi comincio a giocare la sorella cioè capito puoi anche fare queste cose qua tu converti l'avversario e poi ritiri un pg e cominci a giocare quello che prima era un villain cioè queste robe qui sono assolutamente previste cioè non non limitatevi cioè no esatto cioè è un gioco per esagerare questo cioè non dovete limitarvi allora Dune Monster non sta a far spoiler di Final Fantasy XIV cioè non li faccio io su Final Fantasy XIV cioè e sapete quanto è difficile per non fare spoiler no cioè cancello subito sto commento perché se no cioè non sta a far spoiler cioè è importante è veramente importante il fatto che la narrazione in fabula il combattimento stesso è narrazione oltre a combo devastanti mortali per creare combo allucinante devono stare così quelle due cose cioè devono intracciarsi io penso di non aver ucciso nessun villain nessun cattivo da giocatore non ho mai ucciso no cioè o sono villain tipo elementari o non morti che si disperdono ma cioè Ultroxy Ultros no chiacchia che fa la saga di Final Fantasy penso che tutti quanti conoscono Ultros se non conoscete Ultros vergognatevi e andate a seppellirvi eh Ultros ci ha fatto trovare Mino un Ultros gigante sto mostro tentacoloide tutto quanto l'ho sconfitto io che cosa ho fatto l'ho l'ho preso e ne ho fatto il mio il mio pet no non sono un viandante quindi non è un pet vero e proprio che ha delle capacità però uso i punti fabula per farci dei figatti finalmente uso i punti fabula per farlo magari molto piccolo e lo appiccico in giro come se fosse uno slime e lo lancio così mi riferisce alle cose o o lo faccio diventare molto grande per far paura alle persone cose del genere però se l'avessi ucciso basta ci sarebbe morto l'avrei lutato e via dicendo non avrebbe avuto senso così invece ha delle bellissime meccaniche a livello di gioco anche consigli su dove seppellirsi se non conosco Ultros ma non posso essere volgare no in realtà comunque non è così strano perché nei titoli più recenti cioè se non l'hai incontrato su Dissidia o cose così è un po' sparito non so ieri non ricordo di averlo visto dal 10 in avanti ieri ho bloccato la prima persona su Telegram perché mi ha scritto scusa Nicola mi vergogno molto ma chi è Kefka Palazzo è stato bloccato l'ho bloccato proprio no aspetta nel 12 c'è uno slime che si chiama Ultros però non è l'Ultros tentacolare cioè è un omaggio ma non è un a parte che c'è anche nel 14 c'è anche nel 15 c'è anche in Kingslave c'è nel 15 c'è in Kingslave non me lo ricordavo fai molto schifo comunque Emanuele eccetera ma io il 15 non lo conosco bene guarda ti rispetto per questo ti rispetto molto però c'è anche in Final Fantasy 14 c'è in una ah bene in 14 sì però però quello è già un MMO cioè è già una cosa diversa per chi per chi magari invece si è giocato solo però allora ragazzi e ragazze sono le l'una e mezza a me dispiace ma devo veramente andare oggi proprio non posso tardare di un minuto purtroppo quindi grazie Marco per andare allora non è Befka condominio naturalmente sofficino io ti odio mi dispiace cioè ti sto odiando anche se sei una ragazza ma come sai io sono molto inclusivo quindi odio tutti non mi interessa il genere l'etnia o quello che è perché fecfa building comunque va bene lo stesso di pomeriggio ci sarà Pedro sì è la piccola cosa questo pomeriggio alle 15 e 30 eh sì scusatemi alle 18 ci sarà Matteo c'è Pedro che parlerà appunto we need to talk perché parleremo della shared campaign di Warhammer che partirà appunto non mi ricordo se questa settimana o la prossima sul disco di Need Games la shared campaign è la campagna di gioco organizzato di Warhammer ci sono state più di 40 sessioni lo scorso anno quest'anno la prima sessione ci sono all'incirca 60 giocatori quindi è una cosa folle è bellissima i ragazzi che organizzano hanno fatto un lavoro mastodontico se non conoscete Warhammer vi consiglio proprio di partecipare perché innanzitutto è accessibile a tutti quanti potete fare la scheda proprio con gli admin della shared campaign e oggi appunto ci sarà Andrea diciamo il capoccia della shared campaign assieme a Pedro di cui parleranno appunto della shared anche io mi voglio bene amici vedi io sta cosa qua non capisco più insulto più mi voglio bene ma perché la gente ha questa strana relazione parasociale con te non capisce io non so fake fake non so io non so odio facfe fabbricato comunque devo scappare ringrazio Ema grazie mille Ema speriamo di avervi dato delle delucidazioni sui vostri dubbi specialmente questi inerenti ai rituali e ai e ai progetti ci vediamo noi sempre con Emanuele settimana prossima per continuare una serie sui dubbi magari vorrei parlare anche del ruolo del master e del giocatore prossima settimana parliamo cioè le prossime due sono ruolo di giocatori e del GM non so ancora in che ordine e tra l'altro mercoledì prossimo la sera invece sarò su Dines Games Italia a fare la sessione di creazione del mondo e del gruppo per la mini campagna che partirà una volta ogni due settimane giochiamo circa otto sessioni quindi poi vabbè vi si dirà di più ma in futuro in fretta una sola conduzione di una partita a parte del GM già mercoledì prossimo ne parleremo invece vi ricordo che da domani ci sarà un nuovo appuntamento di streaming perché ricomincio a streamare per PG Sports per Beyond PG sul canale di Beyond PG il secondo canale PG Sports dalle 13 alle 15 dopo posterò tutto quanto domani sarà una giornata introduttiva dove vorrò parlare molto però di JRPG di fabula e di la trasposizione videoludica di alcuni giochi perché durante le varie live avrò molti ospiti sto già parlando con il direttore marketing di Panini o chi gestisce la parte manga di Panini con il country manager di Crunchyroll con sviluppatori di JRPG con persone in cui il gioco di ruolo in particolar modo di JRPG hanno influito molto sulla loro vita sia lavorativa che personale quindi inizierò a parlare di queste cose e domani ci sarà la prima la prima live alle ore 13 sul canale Bion PG ma dopo ve lo posterò vi ringrazio grazie mille Ema è sempre bello tornate a fare la cosa più bella del mondo perché conosce i veri GDR ovvero brutte capre maledette leggere il manuale che questo qua vi dà un sacco di risposte alle vostre domande idiote beote che fate sempre usate l'indice analitico per queste domande su fabbola ultima vi ricordo che è super mega attivo il gruppo Telegram quindi iscrivetevi come dei porcelli guatemaltechi così continuiamo a parlare là noi ci vediamo domani sul canale Bion PG questo pomeriggio sul nostro canale per We Need To Talk e con Ema mercoledì prossimo sia in live per parlare di fabbola ultima sia la sera sul canale di Dance Games Italia per giocare ciao a tutti e a tutte continuate a ruolare duro sempre e ricordatevi che se non ruolate duro sempre siete dei marchino che non hanno idea di chi sia KefK Palazzo ciao